con la maglia numero 4 pacifici in arco con la maglia numero 9 palombogino con la maglia numero 96 edicchietta 2 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 8 9 10 9 10 11 13 14 15 15 12 11 12 13 13 14 16 16 Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.